Hai mai desiderato realizzare i tuoi sogni, avere l'opportunità di mettere in pratica le tue idee e creare il tuo futuro? Qui, grazie al Fondo Sociale Europeo PLAS e la Provincia Autonoma di Bolzano, puoi accedere a un mondo di opportunità per sviluppare le tue competenze e acquisire le conoscenze che ti servono per raggiungere i tuoi obiettivi. Il Fondo Sociale Europeo PLAS e la Provincia Autonoma di Bolzano ti offrono le opportunità e gli strumenti per dare vita alle tue idee. Il Fondo Sociale Europeo PLAS è più di una semplice opportunità, è anche una comunità di giovani come te che condividono la passione per il cambiamento sociale, l'innovazione e il progresso. Grazie all'FSE PLAS puoi connetterti con esperti, collaborare con talenti provenienti da tutto il mondo e aprirti a nuove prospettive, ampliare le tue competenze, trasformare la tua idea in un progetto concreto. Entra in azione con noi, scopri il tuo potenziale e apri le porte al tuo futuro. Dai slancio alla tua crescita. Con FSE PLAS e Provincia Autonoma di Bolzano, l'Europa è più vicina. Grazie a tutti.